Con il voto della Camera di ieri viene introdotto nel nostro ordinamento il reato di tortura che verrà punito con la reclusione da 4 a 10 anni. La pena si aggrava se rendersi colpevole di questo reato è un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio fino a un massimo di 12 anni. Pene aumentate in caso di lesione personale grave o gravissima. Di due terzi inoltre, in caso di morte quale conseguenza non voluta, previsto l'ergastolo se si provoca volontariamente la morte. Pene anche per i pubblici ufficiali che istigano la tortura. Le informazioni ottenute con questo reato inoltre non si potranno usare in un processo. Divieto poi di respingere, spelle o estradare una persona verso uno stato dove rischia la tortura. Nessuna immunità invece per gli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per tortura in altro stato da un tribunale internazionale. L'Italia introduce questo reato a quasi 30 anni dalla Convenzione contro la tortura dell'ONU e a 16 dai fatti della scuola Diaz e della caserma di Bolzaneto durante il G8 a Genova condannati dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo. Sul provvedimento passato con soli 198 voti non mancano le polemiche. Per il centrodestra la norma ha un intento punitivo verso le forze dell'ordine i cui sindacati sono molto critici. Il CONSAP parla di legge spot guazzabuglio, il SAP di un manifesto ideologico contro i poliziotti. Difendono la norma, governo e PD. Un passaggio importante, dice il ministro Finocchiaro, del quale non si può che essere soddisfatti. Per Amnesty International non è una buona legge perché è carente sotto il profilo della prescrizione, ma è comunque un passo in avanti.